Per me la musica è vita, è libertà ed è sentimento. 200 milioni di streaming su tutte le piattaforme online e 150 tracce pubblicate. Eugenio Izzi, giovane produttore di Torella del Sannio, fin da bambino ha amato la musica e pian piano si è avvicinato alla composizione utilizzando i primi programmi per l'assemblaggio delle ritmiche. Più in là mi sono imbattuto in un genere musicale che rappresentava un po' quello che io volevo fare, che era quindi l'unione delle armonie della musica jazz e la black music in generale con l'hip hop. Inizia tutto come hobby nel 2019, passando le notti in bianco per sperimentare le composizioni delle tracce musicali che non si basano su delle formule fisse ma sono spesso dettate dal momento. Da un'idea melodica parte la fusione di vari strumenti musicali fino all'utilizzo di strumenti asiatici. Ogni traccia è un racconto. Semplicemente racconta di me, racconta di storie, di vita quotidiana, racconto di emozioni, di qualsiasi cosa. Quindi diciamo che fondamentalmente la musica è il mio miglior metodo di espressione e di comunicazione al mondo. Esprimersi solo con la musica diventa molto più difficile rispetto a una canzone, dove il cantatore si esprime attraverso il testo. Ma il genere strumentale, stando ai risultati, è comunque apprezzato. Quello di Eugenio è un lavoro svolto tra i vicoli di un piccolo paese, ma nonostante questo riesce a farsi apprezzare nel mondo discografico. Comunque in futuro spero di poter continuare a fare questo, di vivere per sempre di musica e con la musica. E spero di riuscire a fare sempre di più, di riuscire a trasmettere sempre qualcosa a qualcuno. Questo, spero che continui sempre così, diciamo. Grazie a tutti.